In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Gesù, perdona le nostre cose, preservaci dal fuoco e all'inferno. Corte e cero, tutte le armi, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel primo mistero della gioia, contempliamo l'annuncio dell'Angelo a Maria. Padre nostro che se ricevi sia santificato in tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimette a noi i nostri debiti, come noi gli rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal mare. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso e nell'ora, nella nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso e nell'ora, nella nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso e nell'ora, nella nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso e nell'ora, nella nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetta fra le donne. Adesso e nell'ora, nella nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso e nell'ora, nella nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso e nell'ora, nella nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso e nell'ora, nella nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso e nell'ora, nella nostra morte. Amén. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amén. Gesù, perdona le nostre colpe, presentaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo a tutte le armi, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi. Nel secondo mistero della gioia contempliamo, Maria che va a visitare la Cugina Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rivetti a noi i nostri redditi, come noi li rivetti a noi i nostri redditori. E non ci intupe in tentazione, ma libera e c'era male. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come erano i principi e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amén. Gesù, perdonami le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Forche in cielo tutte le arame, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi. Nel tecno mistero dell'altore concituliano, la nascita di Gesù nella capanna di Petra. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal mare. Amén. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come erano in principio e sempre, in secoli dei secoli. Amén. Gesù perdona le nostre colpe, presentaci dal fuoco dell'inferno, corte in cielo tutte le armi, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre di Dio, regina della pace, prega per noi, nel quarto mistero della gioia contempliamo, Maria che presenta Gesù al Tempio. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo così intera. Dacci oggi, nostro Pagno, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, che non ci dure in tentazione, ma liberaci dal male. Amén. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, nel quarto mistero della vita. Amén. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, nel quarto mistero della vita. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Sereo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Sereo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Sereo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Sereo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Sereo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Sereo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Sereo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Sereo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre copere, presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le armi, specialmente le più disegnose, della tua misericordia. Maria, Madre di Dio, regina della pace, prega per noi, nel quinto mistero delle gioie contempliamo, Gesù ritrovato tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei ricevi, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave una via piena di grazie del Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, nel quinto mistero delle gioie contempliamo, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie del Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, nel quinto mistero delle gioie contempliamo, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Ave Maria piena di grazie del Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Ave Maria piena di grazie del Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria piena di grazie del Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria piena di grazie del Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria piena di grazie del Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria piena di grazie del Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre morte, presentaci dal fuoco e dall'inferno, con il cielo tutte le armi, specialmente nel frutto dei nostri, e nella corso della misericordia. Regina della pace, prega per noi. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra e salve. Salve Regina, a te, rinco le armi, e sui figli di Dio. A te, sospirà, senti a mente delle gente che stavano e di aline. Vosso, dunque, la voglosa nostra. Rivolge a noi, la pagina di Dio, e molto a ciò. E dimostra, se lo scesivo Gesù, il frutto del tuo Seno, Gesù, il frutto del tuo Seno, ovviamente, ovviamente, o via, o noce, vergini e mani. Signore e pietà, Cristo pietà, Cristo ascoltaci, Cristo e saudisci, o Dio Padre Celeste, o Dio Figlio Redentore del mondo, o Dio Spirito Santo, a pietà di noi, Santa Trinità unico Dio, a pietà di noi, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Grazia Divina, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Semprevera, Prego per noi, Madre senza colpa, Madre amabile, Madre ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre della Chiesa, Prego per noi, Vergine Prudentissima, Prego per noi, Vergine degna di onore, Prego per noi, Vergine degna di ogni lode, Prego per noi, Vergine potente, Prego per noi, Vergine clemente, Prego per noi, Vergine fedele, Prego per noi, Modello di santità, sede della sapienza, causa della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tempio di gloria, modello di terra e pietà, rosa mistica, gloria della stilpe di Davide, Prega per noi, splendore di grazia, Prega per noi, arca dell'alleanza, Prega per noi, porta del cielo, Prega per noi, stella del mattino, Prega per noi, salute degli infermi, Prega per noi, rifugio dei peccatori, Prega per noi, consoratrice degli attriti, Prega per noi, aiuto dei cristiani, Prega per noi, regina degli angeli, Prega per noi, regina dei patriarchi, Prega per noi, regina dei profeti, Prega per noi, regina degli apostoli, Prega per noi, regina dei martiri, Prega per noi, regina dei confessori della fede, Prega per noi, regina delle vergini, Prega per noi, regina di tutti i santi, Prega per noi, regina concepita senza peccato originale, Prega per noi, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della pace, Regina delle famiglie, Agnello di Pio che togli i peccati del mondo, Esaudisci, Agnello di Pio che togli i peccati del mondo, Abbi in pietà, Signore, prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo fatti bene delle promesse di Cristo. Preghiamo. Signore Dio, concede a noi, i tuoi servi, una continua salute di corpo e di spirito, e per l'intercessione gloriosa di Maria semprevergine, liberaci dai mali della vita presente, e donaci il gaudio dei veri e verni, per Cristo nostro Signore. Amén. Secondo l'intenzione del Papa per l'acquisto delle indulgenze, Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro orale in quale dobbiamo, e credi a noi i nostri debiti, come a noi riflettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in predazione, ma liberaci dal male. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amén. Per tutti i colori che si raccomandano alle nostre preghieri, Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il Correggio, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come a noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amén. Per tutti coloro che sono morti a causa di questo virus, perché si erano doti della visione di alivica del Padre, Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Lassi oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, mamma di Dio, prega per noi i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.